E ora? Sono 75 euro di multa, lo sa? Mi fai minacciando per piacere Guardi, le vogliamo bene Siccome ci hanno incaricato del controllo del ponte Si faccia un po' indietro Si faccia un po' indietro Ah, quante ne dobbiamo fare per i baresi noi? Quante ne dobbiamo fare? Ecco Mio caro signore Venga qua, venga, venga qua Venga qua Allora, mi raccomando Voi che siete? Che televisione? Siamo una televisione a colori Mi raccomando, non transiti su questo ponte Guardi, cadesse Mi vuole dire perché? Perché io me lo sto chiedendo da Messi Allora, si, si, si Dovesse cadere Mamma, te la posso dire la bergamasca? Tu? A vista cadere la capdossù Cioè, capisci che cosa succede? È bello che hanno messo pure a terra Devono continuare A terra il problema Il problema è che l'hanno fatto con i piedi, capito? Questo l'ho capito E allora qui non si può transitare Devono fare dei lavori Degli aggiusti E quindi dovranno Dovranno coprire tutto Tutto Questo lo devono togliere tutto Devono mettere quelli autorizzati dal ministero Come ma fa? Quanti anni ha lei? 81 quasi Alla salute E vabbè E quindi Quando ne ha viste in corso della sua vita? Ho fatto 250.000 chilometri Si faccio i conti Ma anche su altri ponti strallati? No, questo Strallato come questo No, questo è il primo Non è mai visto un ponte strallato così In televisione No, facci una cosa Non diamo troppo nell'occhio Mettiti in sella E pedala Che devo chiudere Che mi hanno incaricato Di stare qui a controllare il ponte Beh, a chiudere pure l'altra Si, vado di là pure Vai, vai Veloce Vai E vabbè E vabbè Si fa questo e anche altro Per la città di Bari Vigiliamo il ponte strallato Per la città di Bari Vigiliamo il ponte strallato